we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi volevo immortalare insieme a voi questo ultimo capitolo finale di gta 5 offline si ragazzi perché in due mesi abbiamo iniziato a dicembre 2019 a fare la storia offline con un obiettivo completarla al 100 per cento e devo dire che è stato veramente molto faticoso ragazzi è stato veramente molto faticoso in quanto siamo arrivati mi viene da ridere siamo arrivati al 99,8 per cento gli ultimi 0,2 si ottengono completando la gara notturna con frank l'ultima gara la sto facendo in questo momento e volevo veramente dirvi che è stato divertentissimo fare questo gta dai però dai però dai però vai 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 non ce la faccio non ce la faccio a farlo non posso condurre un video e fare l'ultima gara è difficilissima raga un secondo ma fa culo ma dai ma dai non si può no raga non si può fare raga non si può fare non si può fare vai 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 franklin ma perché ogni volta è così ma perché ogni volta come faccio a vincerla mai vai 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 non la conta terzo non la conta terzo si che la conta hai completato il gioco al 100% si che la conta oh shit oh shit completamento 100% wow e adesso non c'era una missione nello grazie mirko grazie mirko ma non c'era una missione vai alle tre sul monte ciliad andiamo e ne fuo chi son già la signori bisogna andare al monte ciliad ok serve assolutamente fare così c'è una missione c'è una missione ragazzi alle tre sul monte ciliad voglio vedere insieme a voi voglio vedere insieme a voi se mi manda che ore sono innanzitutto sono le 5 del mattino andiamo sul monte ciliad con la funivia però alle 3 portami al rifugio andiamo al rifugio andiamo rifugio vai devi prendere la macchina aliena ok allora dormiamo dicono che devo prendere la macchina aliena e andare sul come fai a dare sul monte ciliad con la macchina aliena che cosa cavolo state dicendo tra poco dovrebbe uscire un punto di domanda mi dicono ok non è vero infatti perfetto c'è un punto di domanda ragazzi oh mio dio c'è un punto di domanda veramente ma è giusto alle 3 del mattino nello è giusto nello calmi 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 no voglio vedere il punto ragazzi è apparso un punto di domanda è apparso un punto di domanda salviamo un secondo voglio vedere cosa succede adesso dove è il punto di domanda innanzitutto dove diamine c'è un punto di domanda la dai taxi portami al punto di domanda vai 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 vediamo un po che cosa succede dai signori andiamo al punto di domanda che cavolo sarà non ne ho idea non ne ho idea attenzione ci vuole un po per il caricamento questa cosa un po mi preoccupa ci metto un po troppo a caricare sinceramente eh quanta strada sta facendo il taxi non è che era così tanto attenzione porco vacca chi è questo un mostro il sasquatch 8 anni a stacciare i boschi aia cos'è ma come merda fresca ma che schifo che schifo è un po cieco questo qua ma cos'è che fa questo pazzo al cento per cento sblocchi un pazzo che ha la merda in tasca ma perché abbiamo delle armi da prendere cos'è che devo fare e non è che bene aperte per lo spagnolosi ululati ok esamina con cura il luogo di ritrovamento delle feci ma stiamo scherzando per davvero ma che cavolo di missione è questa ma non esiste ma non esiste le feci andiamo a vedere un attimo dove c'è il punto giallo è incredibile ci ha sbloccato una missione avendo completato il gioco al cento per cento ok questo dove ha cagato qualcuno diamo un attimo esamina con cura dato vado in giro con un uzi metti che c'è un puma questo è un coniglio cosa vuol dire esamina con ma che cazzo cos'è quel coso ma vai 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 ma c'è un punto rosso da prendere forza 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 ma stiamo scherzando oh la madonna ma c'è cos'è che è succedendo ma l'abbiamo preso ma che cazzo sta succedendo chi è questo è ancora vivo ma è ancora vivo vai 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 ma non l'ammazzerò mai guardalo ma scappa via un altro ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando oh merda ma che cos'è che sta succedendo bella capriolo indietro vai 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 ma è ancora in giro quello lì what the fuck è un big foot è un big foot ma porca vacca ma un big foot mascherato ma sei un ma sei fintissimo cosa fai questo qua ma tu sei il pazzo criminale sei matto giustamente non sono matto ma è un pazzo questo cosa che fa ciao ora è morto dove andato è la in fiamma aspetta che lo guardiamo ok non c'è più il bigfoot ragazzi questo era l'ultimo esemplare di bigfoot signori completato il gioco al cento per cento